Allora ragazzi, devo rispondere a un fenomeno che mi ha menzionato, non so per quale motivo Dicendo, se mi sei sul cazzo, dimmelo A parte che io, caro Dr. Juve, non so chi sei, non me ne frega un cazzo E a me non mi devi rompere i coglioni, perché è certo la persona sbagliata Punto numero 2, io Nello lo conosco da 4 anni E se ho risposto a quel commento, non posso rispondere, perché me lo dici tu che non posso rispondere Punto numero 3 Hai messo in mezzo la questione crew, eccetera, eccetera, eccetera Tu, primo, non sai come sono andate le cose e non ti permettere di metterti in mezzo a sta cosa Perché non sei nessuno e fatti i cazzi tuoi Sto tirando fuori i coglioni, perché io ho più coglioni di te Poi, poi, io ho bisogno di fare 5 visual Punto numero 1, a me le delle visual non me le hai mai fottute un cazzo Punto numero 2, io non ho canale monetizzato A differenza tua, che fai il pagliaccio, compiando nati per vincere, facendo quei video lì Io ho il pagliaccio su YouTube, non lo faccio Io parlo di calcio, faccio video gameplay, faccio quel cazzo che voglio nel mio canale Esprimo il mio concetto calcistico e a me non mi devi rompere il cazzo Poi, poi, hai menzionato Nello, poi Nello risponderà per lui Io lo conosco e ti posso dire che Nello è un bravissimo ragazzo, è una bravissima persona Poi mi hai chiamato il ceccarini dei poveri Rispondo a questa cosa, poi non lo rispondo più perché sinceramente ti piscio in testa quando vuoi Il ceccarini dei poveri, come tu hai chiamato, c'ha più soldi di te E se voglio mi compro tutta la tua vita Caro Dr. Juve Caro Dr. Juve Quindi, non mi rompermi il cazzo, non rompere il cazzo Perché te lo ripeto, non mi conosci E stai pensando i piedi alla persona sbagliata È chiaro? È chiaro? Continua a fare il pagliaccio Io parlo di calcio Parlo di Juventus Esprimo il mio concetto calcistico Non faccio Lost in power dei miei coglioni come fai tu su Youtube Per guadagnare soldi Perché la differenza tua Faccio tutto gratis Perché non mi ho bisogno Grazie Ti